Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi abbiamo una notizia davvero succulenta, che ha già fatto molto parlare di sé, sembra che Silvia Tofanin e Pier Silvio Berlusconi stiano pianificando il loro matrimonio. Sì, avete sentito bene. Questo evento tanto atteso era stato addirittura promesso a Silvio Berlusconi in un periodo delicato per la sua salute. E ora, pare che il grande giorno sia fissato per il 2024. Dopo anni di convivenza e la nascita dei loro due bambini, sembra che Silvia e Pier Silvio siano pronti a fare il grande passo. Attualmente, la coppia vive a Portofino, nella storica villa San Sebastiano, dove hanno creato un vero e proprio nido d'amore per la loro famiglia. E ora, ecco la novità, sembrano aver finalmente deciso di sposarsi. Il sindaco del piccolo comune Ligure non ha nascosto il suo entusiasmo all'idea di poter celebrare un matrimonio così importante, che potrebbe tenersi nella suggestiva chiesetta all'interno della loro proprietà. Ma non è tutto, Pier Silvio e Silvia risiedono in una magnifica villa del Cinquecento, che si estende su ben 1300 metri quadrati. La proprietà è un vero gioiello, dotato di nove camere, sette bagni, oltre a un frutteto, un oliveto, un vigneto e una piscina. E sapete cosa? All'interno di questa residenza c'è anche una cappella privata, perfetta per una cerimonia nuziale lontana dagli sguardi indiscreti dei paparazzi.